in tutto il territorio nazionale, oltre ad apparire in contrasto con il rispetto delle prerogative delle Regioni e i sensi anche della disciplina costituzionale prevista dal titolo V, ci appare anche inopportuna nel definire la natura giuridica dell'iscrizione, cioè se abbia effetti meramente conoscitivi o anche costitutivi e quale sia l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione. Ecco, queste brevi osservazioni le ritroviamo in alcuni dei nostri emendamenti che, torno a dire e concludo, abbiamo presentato nel tentativo di contenere gli effetti di questa legge delega che non condividiamo assolutamente. Grazie. Grazie. Ci sono altri che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti? Non mi pare. A questo punto chiedo alla relatrice, rappresentante del Governo, di esprimere il parere. Siamo all'articolo 1. I pareri sono tutti negativi. Grazie. Conforme al relatore. Grazie. Allora passiamo al primo emendamento 1.2 Grillo. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Colleghi, vi pregherei però di rimanere ai vostri posti perché abbiamo un certo numero di votazioni da fare. Bene.